Con potenza anche Ruggiara del Nord. Dalla parata a Twilfonte, dal centro Rolex alle prese con Romerouf. Ed è Romerouf più veloce, sopravvanza Rolex, poi Ruggiara. Romerouf leader, poi Rolex in seconda posizione che ritorna in avanti, 14-1 i primi 200. E c'è l'errore di Royal Vete sulla prima curva, mentre tentava di progredire. E allora ritorna in vantaggio Rolex Rigao. Su Romerouf, poi Ruggiara terza sotto, 30-1 i 4 cent, Rosa Gritti in quarta posizione. Precedere il resto del gruppo, con Red Rouse quinta allo stoccato, davanti a Rourke Seller, chiude il gruppetto Royal Vete rimesso. 600 in 46, ha ridotto un po' il ritmo, Rolex ne approfitta Rosa Gritti per affacciarsi gravatamente a largo. Si porta in scia Red Rouse e Rouse M, le due femmine riguadagnano terreno. Mentre Rolex si è potuto permettere una curva tranquilla in 17-1,3 e mezzo. Ora però Rosa Gritti va via aggressiva, Rosa che va all'attacco di Rolex. Rolex e Rosa lo prese, poi Romerouf e Red Rouse prendono un po' di vantaggio con Rosa che sferra già l'attacco a Rolex al chilometro. Guadagna qualcosa al rivale, 14 a mezzo la frazione, 1-18 e 2, sta già passando Rosa, ma si porta dietro come un'ombra a Red Rouse. Poi Rolex che sembra abbattuto, Romerouf e gli altri. Rosa Gritti con frazione in 14 secco, prende vantaggio, ma Red Rouse è lì. Poi Romerouf che avvicina e sopralanza il galoppante Rolex Regal. Si va all'ingresso in retta d'arrivo con Red Rouse che attacca Rosa Gritti, Red Rouse RSM che sta passando su Rosa Gritti. A largo intervengono Romerouf e anche Rockefeller di no. Nel finale, Red Rouse RSM su Rockefeller, Red Rouse RSM, Rockefeller Rosa Gritti.